Si alza il sipario sull'edizione 722 della perdonanza celestiniana, quest'anno contrassegnata dal messaggio di misericordia contenuto nella giubileo indetto da Papa Francesco. Quest'anno la perdonanza è tornata a Sulmona in occasione della giostra europea. Si articoleranno in tre grandi tronconi, come ha spiegato il vicepresidente del Comitato Promotore, Alfredo Moroni. Dal 16 di agosto al 22 ci sarà la prima fase, cioè l'avvicinamento della fiaccola portata dai tedofori, seguita dai tedofori, fino al 23 in cui si accenderà il fuoco. Dal 23 al 29 ci saranno ovviamente le celebrazioni tematiche, specifiche, tradizionali della perdonanza. Dal 30 fino al 4 ci sarà la grande rassegna diciamo di iniziative dedicate al jazz che partono da commegni, spettacoli e poi 600 musicisti che per il secondo anno consecutivo testimoniano la loro solidarietà a questa città. Oltre 100 spettacoli fino al 3 settembre e altri 100 concerti. Il giorno 4, quello della grande maratona jazz, 8 convegni, il consueto incontro con le città gemellate, incontri su turismo, jazz e spettacolo, due marce, tre mercati, quattro piazze animate da cinque associazioni, progetti di solidarietà. Molto attesi alcuni eventi e tra essi il concerto di Massimo Ranieri, testimonial della perdonanza e il neo della pace che vedrà protagoniste le formazioni giovanini di Pescara, Roma, Juve e Torino. L'interesse maggiore ovviamente è dedicato al corteo storico e al programma religioso della perdonanza celestiniana che si svolgerà comunque sempre nella Basilica di Collemaggio. Ad aprire la Porta Santa quest'anno sarà il Cardinale Menichelli. Quest'anno avremo la possibilità, nonostante la Basilica sia un cantiere, di entrare dalla Porta Santa e ovviamente tutto in sicurezza, verrà percorsa dai fedeli, da tutti coloro che vorranno lucrare l'indulgenza, tutta la navata di destra della Basilica che va a riuscire appunto dalla porta anteriore.